Allora niente io abbiamo preso contatti con Marco in maniera molto molto inusuale nel senso che noi avevamo una casa da vendere e era da parecchio tempo che tentavamo di venderla ma non riuscivamo assolutamente nell'impresa ci siamo affidate alle agenzie tradizionali però il risultato è sempre stato un risultato dove passava il tempo e nulla veniva proprio concluso quindi a un certo punto ho ricevuto per posta una busta e ho visto in questa letra di questo ragazzo appunto Marco che proponeva una vendita alternativa un nuovo modo di vendere diciamo gli immobili ho contattato Marco subito perché a questo punto ho detto proviamo anche altre soluzioni Marco mi è sembrato fin dalla prima telefonata una persona molto seria molto molto disponibile anche molto empatica quindi ho contattato mio padre e in pratica abbiamo parlato abbiamo detto ok dai proviamo a vedere intanto vediamo cosa succede poi la trattativa è stata condotta più da mio padre e ti confermerai che Marco si è rivelato comunque una persona in gamba che nonostante l'immobile comunque presentasse delle difficoltà di carattere strutturale forse comunque non come dire non non appetibile dal punto di vista diciamo del mercato Marco ha trovato diciamo una soluzione in poco tempo e siamo riusciti a sistemare i problemi a livello di catastro a livello burocratici che impedivano la vendita e poi siamo finiti a rogito vi dico che io e mio padre siamo ancora increduli perché non pensavamo veramente di poter chiudere la trattativa in così poco tempo e siamo in periodo covide quindi questo è un'aggravante e quindi siamo siamo contenti e ci sentiamo assolutamente mi confermerai di consigliare Marco per qualsiasi necessità di vendita del vostro immobile soprattutto se siete come noi delusi che hanno provato tante vie tradizionali agenzie piuttosto che internet e siete rimasti delusi quindi bene Marco io ho conosciuto Marco attraverso amici comuni e fin dalla prima volta che l'ho visto mi ha sperato fiducia io ho fidato subito l'incarico ed ho risultato trovare clienti non tanti ma sufficientemente capaci di capire se erano interessati o no e in tutto sommato insomma la cifra che abbiamo in qualche modo ricevuto e con quello che ci aspettavamo sono molto soddisfatto e vi essere fidato il consiglio a tutti gli amici e persone che mi conoscono